E' questo momento, si è il tuo padre! È il tuo padre, il tuo padre, il tuo padre è il tuo padre. L'altro padre in cattolini, ma è un padre che non ha dagnato questa finale che fa la metà di un... ...e un padre, non c'è qui, non c'è qui... ...i un padre con i salleri didonzi di lui. No, non c'è qui. E' unaıme di un'altra kettin di aria... ...e un'altra kettin di aria... ...none c'evafondola in fulgiale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.